Chi salirà su un monte tuo, chi resterà avanti a te Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua Alleluia Sento nel cuore che Vittoria ha una preghiera da fare per iniziare questo culto Anzi Titina Alleluia 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 Signore prepara i nostri cuori a ricevere questo messaggio incoraggiante e vogliamo che questo messaggio debba entrare nei nostri cuori come Tu desideri Signore dichiariamo che sia il Tuo Spirito Santo a guidarci nella predicazione Signore e che sia lo stesso Spirito Santo a essere quel portatore del Tuo messaggio nei nostri cuori Signore Lui che è capace di farlo entrare nel modo migliore nel momento giusto Signore grazie per questa istruzione questa mattina grazie per questo incoraggiamento Signore e grazie perché non smetti di essere nostro Padre e non smetti mai di essere il nostro Dio Signore nel nome di Gesù Amen Amen andiamo a prendere posto e luce fu anche la luce del centro Stefano vogliamo salutare chi ci sta seguendo da casa questa mattina Dio vi benedica anche a voi a casa che possa essere una domenica di pace di serenità anche per voi detto ciò siamo pronti per il messaggio di oggi che ha il titolo io faccio le cartoline le cose così vi preparate qual è il titolo dello studio di oggi conquistato per te di alla persona che accanto c'è sempre qualcosa che Dio conquista ogni giorno per te e vogliamo leggere una storia che sicuramente molti conoscono e se non la conosci chi la conosce questa storia ah Gesù mi dici quale storia volevo vedere che siete a te sai molto spesso nella chiesa siamo abituati sempre a fare Amen Amen e vieni in automatico allora bravi è la storia di Deborah chi la conosce va bene la scoprirei stavolta non ho mai predicato su Deborah ok andiamo subito con i versi che si trovano nel libro dei giudici al capitolo 4 leggeremo il capitolo 4 4 andremo in maniera proprio più o meno spedita è morto Eud lo sapevi che era morto? no è morto e i figli di stranele continuavano a fare ciò che è male agli occhi del Signore il Signore diede nelle mani di Yabin re di Canaan che regnava ad Aso ok il capo del suo esercito era Sisera ripeti con me Sisera che abitava ad Aroset Goim i figli di Israele gridarono al Signore vuoi ripetere con me? gridarono perché Yabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele fermati cerchiamo di capire la situazione il popolo di Dio oppresso per 20 anni da un esercito nemico e Dio aveva messo il popolo di Israele nelle mani di questo nemico perché facevano ciò che male agli occhi del Signore e questo e il popolo di Israele aveva una particolare paura la paura che il popolo di Israele aveva in questo preciso momento storico erano 900 carri di ferro facevano paura questo esercito aveva una forza incredibile nei carri nei cavalli e nei cavalieri erano potenti e avevano paura questa mattina tu devi capire qual è il tuo esercito che ti sta facendo paura che ti sta mettendo paura quali sono i tuoi carri di ferro nemici che ti stanno opprimendo quali sono qual è questo esercito che ti sta dando fastidio e che tu solo al pensiero hai paura scoprirai perché sì e in quel tempo era giudice di Israele una profetessa che Bibbia è preso scusami come una donna alla guida del popolo di Israele no una donna è un essere inferiore non è possibile questo hai preso una Bibbia sbagliata avrei preso come una donna a guidare no non è da Dio che la donna guida qualcosa è vero eppure sì c'è una donna che guida il popolo di Israele ed era giudice di Israele e questa donna si chiama Deborah moglie di Lapidot seguitemi nella storia lei sedeva sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel nella regione montuota di Efraim e i figli di Israele salivano da lei per delle controversie giudiziarie era giudice continuiamo Deborah mandò a chiamare Barak ripeti con me mandò a chiamare figlio di Abinoam da Cader di Neftali e gli disse Barak il Signore Dio di Israele non ti ha forse dato un ordine vogliamo incoraggiarci stamattina e dire alla persona che è vicino a te ma forse il Dio di Israele non ti ha fatto tante promesse incoraggiamoci ehi chiama per nome la persona di Titina Dio ti ha fatto delle promesse te le sei scordate Deborah va a Barak e gli dice guarda tu stai avendo paura di questi novecento carri ma Dio ti ha dato un ordine e tu stai facendo l'orecchio del mercante ti stai dimenticando dell'ordine che Dio ti ha dato e tu continui ad avere paura di questi novecento carri di ferro ma Dio ti ha dato un ordine la stessa cosa vale oggi noi continuiamo ad avere paura delle situazioni veniamo presi dalle situazioni ma ci dimentichiamo che di fronte a quelle promesse di fronte a queste situazioni Dio ha dato una soluzione ha dato una promessa ha dato una strategia ripeti con me Dio mi ha dato una promessa una soluzione e una strategia lo ascolterò io lo ascolterò e l'ordine qua va raduna sul monte Tabor e prendi con te diecimila uomini e fili di Neftali e dei fili di Zeburon vai avanti io attirerò io dice il Signore io attirerò verso di te al torrente Chison Cisera capo dell'esercito di Yabin con i suoi carri e la sua numerosa gente e lo darò nelle tue mani era questa la promessa che Dio aveva fatto a Barak era questo l'ordine ma quante promesse abbiamo noi io combatterò con te e tu stai tranquillo si forte e coraggioso io non ti abbandonerò mai eppure noi quando vediamo i novecento carri di ferro ci facciamo prendere e abbiamo paura ma qui il Signore sta dicendo io prenderò il tuo nemico te lo porterò lì e farò tutto io tu vai lì gli stava dando una strategia molte persone non ricevono strategie spirituali perché rimangono in superficie vai avanti Barak le rispose se vieni con me andrò ma se non vieni con me non andrò ci sono molti credenti che hanno bisogno di essere presi per mano e di dire andiamo insieme preghiamo insieme risolviamo insieme e questa è la forza della Chiesa molto spesso nelle situazioni difficili noi ci sentiamo soli il nemico ci vuole far sentire soli senza Dio e la prima cosa che ti viene in mente è subito dove è Dio dove è il Dio che io lodo dove è la Chiesa subito subito dove è la Chiesa e basterebbe in un momento critico alzare semplicemente il telefono e dire ehi qualsiasi situazione che tu stai attraversando qualsiasi carro di ferro tu hai di fronte noi stiamo con te non vai da solo Dio è con te non ci vai da solo e questo tu lo devi sapere che c'è forza nella Chiesa vai avanti e Deborah disse certamente verrà con te per la via per cui cammini non ti certo che verrà con te però la via per cui cammini non ti porterà onore perché Deborah ha risposto così perché perché il Signore darà Cisera in mano ad una donna perché Deborah ha risposto così a Barak perché ve lo dico dopo e Deborah si alzò e andò con Barak a Cades andiamo avanti Barak convocò Zabulon e Neftali e a Cades diecimila uomini si misero al suo seguito e Deborah sarei con lui ora Eber il Cheneo si era separato dai Chenei discendenti di Obab suo cielo di Mosè e aveva piantato le sue tende fino al quel cetro di Sanaim che è vicino a Cades fu riferito a Cisera che Barak figlio di Abinoam era salito sul monte Tabor Cisera radunò tutti i suoi carri novecento carri di ferro e tutta la gente che era con lui da Aroset Gohim fino al torrente chi sono? Allora Deborah disse a Barak alzati perché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Cisera nelle tue mani lo vuoi ripetere questo concetto con me ti vuoi convincere per fede che oggi è il giorno della tua vittoria oggi è il giorno della tua conquista oggi è il giorno che il tuo nemico smette di incuterti paura perché Dio il tuo nemico l'ha messo nelle mani nelle tue mani duemila anni fa e poi lo vedremo il nostro nemico è stato messo nelle nostre mani più di duemila anni fa vi faccio una domanda per vedere se mi state seguendo qual era il punto di forza di Cisera i novecento carri era quello il punto di forza vai avanti e il Signore mi sei rotta davanti a Barak Cisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito che fu passato a fil di spada e Cisera sceso dal carro si diede alla fuga piedi che cosa è successo? che cosa è successo in questo momento? Cisera torna a piedi ci si è arrivato? qual era il punto di forza di Cisera? i carri e i cavalli torna a piedi Dio è capace di togliere forza al nostro nemico ha tolto il punto di forza Cisera gli ha tolto i cavalli e i carri lo spiega meglio dopo Cisera torna a piedi e se torna a piedi significa che non sta più a cavallo se torna a piedi vuol dire che se non sta a cavallo non può camminare nemmeno il carro quindi significa che Dio ha tolto potenza al nemico di Israele c'è un passo nella Bibbia che vedremo dopo che dice la scrittura che Gesù Cristo ha detronizzato principati potestà e ne ha fatto un pubblico spettacolo a me vai avanti ma Barak inseguì i carri e l'esercito ad Aroset Goim e tutto l'esercito di Cisera cadde sotto i piedi della spada e non scampò neppure un uomo Cisera fuggì a piedi verso la tenta di Ael moglie di Eber il Cheneo guarda caso questo Cheneo si spostò qui e Cisera tutto il suo esercito morì a fil di spada e vedremo come tranne Cisera che si salva vero? non conosci la storia lui incomincia a fuggire e fugge verso la tenda di questa donna Eber che è lì nei pressi vai avanti Giuseppe per favore Jael uscì e incontrò Cisera e disse entra mio signore entra da me non temere ed egli entrò da lei nella sua tenda e lei lo coprì con una coperta perché voleva nasconderlo nasconderlo da chi? da Barak vai avanti ed egli disse ti prego dammi un po' d'acqua da bere perché ho sede e quella ha aperto l'otra del latte di dire da bere il latte e lo coprisci non ti preoccupare vuoi l'acqua? ti dai il latte ti copro non ti preoccupare stai tranquillo stai serio dormi ed egli gli disse state nell'ingresso della tenda forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà c'è qualcuno qui dentro? tu risponderai no e allora Yahel la moglie di Eber prese un piolo della tenda all'epoca i pioli delle tende erano sfilettoni di legno appuntito così ed un martello andò piano piano da lui che era coperto stava dormendo si stava facendo il latte e lo piantò nella tempia tanto che esso penetrò in terra Sisera morì in quella tenda Sisera da essere il nemico del popolo di Israele Dio ha dato strategia a Barak per uccidere i suoi ma ha dato strategia anche per mettere Sisera morto già morto nelle mani di Barak il nostro nemico ci viene consegnato morto il nostro nemico è morto egli era non ho finito egli era profondamente addormentato e sfinito e chiaramente morì mentre Barak inseguiva Sisera Yahel lo c'è incontrato e gli disse vieni e ti mostrerò l'uomo che tu cerchi l'ho già ucciso è tuo egli entrò da lei e così si era lo stesso morto con il piuolo nella tempia quel giorno Dio umiliò Yahbim re di Cana davanti ai figli di Israele che significa mi ha fatto un pubblico spettacolo la mano la mano dei figli di Israele si frecce sempre più pesante sugli abitri di Cana finché l'ebbero annientata è finito che cosa è successo in questa storia praticamente Dio ha portato il popolo nemico in un letto di un fiume secco era secco e per poter togliere le cari i cavalieri fece piovere così tanto dal cielo che quel fiume riprese ad essere in piena e la forza dell'acqua come dire portò avanti i carri e i cavalli facendo scendere ovviamente dai cavalli dei cavalieri e così egli ha tolto la potenza dove sta la rivelazione di questo passo quanti vogliono avere la potenza sul nemico quanti vogliono come dire annullare la potenza del nemico c'è una sola soluzione l'acqua della parola leggi la parola leggi la parola quando tu leggerai quella parola ogni giorno sarai come un fiume in piena sarai ripieno dello spirito i fiumi di acqua viva dice Giovanni sgorgeranno dal tuo seno c'hai un fiume che scorre dentro no il nemico ti sta vincendo ma c'hai un fiume che ti scorre dentro stai bruciando hai vinto su un nemico è chiaro fin qui è chiara la storia adesso l'analizziamo nello specifico quanti anni il popolo di Israele è stato vittima di questo popolo nemico cosa fa il signore quando il nemico ti toglie qualcosa lo sapete quando il nemico ti toglie qualcosa no e tu poi riprendi a confidare il signore il signore ti dà quello e gli altri il signore ti dà sempre il doppio di quello che il nemico ti ha tolto quanti anni di pace ha avuto il popolo di Israele dopo 40 anni hanno avuto 40 anni di pace Deborah vediamo la figura di Deborah Deborah ha preso l'iniziativa non tutti hanno questa iniziativa non tutti prendono l'iniziativa e molto spesso alcuni di noi hanno bisogno di una Deborah o di un Deborah che viene e ti dice ehi ti voglio ricordare questo non mollare ehi il tuo nemico Gesù te l'ha messo nelle mani non lasciarti vincere non lasciarti incutere paura da quel nemico non guardare i carri guarda la soluzione e la vittoria fu data a Deborah chi è andato in guerra Barak a chi li fu affibbiata la vittoria a Deborah perché perché ha preso l'iniziativa eppure Barak era un uomo di fede quanti credono che Barak era un uomo di fede aveva fede Barak o no se no non sarebbe andato però questa fede molto spesso ha bisogno di una Deborah che ci viene a dare uno spintone a dire ehi esci dalla andiamo ti voglio ricordare chi è il nostro Dio ti voglio ricordare le promesse è vero o no? Barak però ha fatto una cosa importante e questo è il secondo step che molti hanno bisogno di fare e molti non fanno purtroppo qual è stata l'attitudine di Barak mettere fede nelle parole di Deborah di una profetessa molto spesso non vogliamo leggere non leggiamo la scrittura ma quando ti parla il ministro di Dio il leader della situazione e ti dice di fare delle cose tu non le fai perché non metti fede a quelle parole continua a mettere incredulità e continua a fare a modo tuo allora e Deborah ti viene vicino e Deborah ti dà le parole però se tu non dai ascolto a tutto ciò la tua fede rimane improduttiva perché la fede di Barak subito dopo l'ha portato ad agire la vera fede è azione stai mettendo fede nella parola di Dio ma stai mettendo fede anche nei consigli che il tuo pastore ti dà Barak ha messo fede in quelle parole e quindi uno Deborah è una donna abbastanza profonda nel rapporto con Dio a tal punto che era così sensibile che ha sentito quella voce che ha detto ehi vai da Barak scuotilo due era una donna che ha preso l'iniziativa quanti stanno avendo paura di questi carri quanti vivono con la paura di questi carri e rimangono a guardare questi carri così ti voglio dire stamattina non essere un sii una Deborah prendi l'iniziativa prendi l'iniziativa di affrontare questo nemico prendi l'iniziativa di affrontare questa situazione non cambierà se tu rimani fermo lì prendi la tua posizione di figlio di Dio su quella situazione tre prendi l'iniziativa è importante la scrittura dice io metterò si sarà nelle tue mani tu prendi l'iniziativa però l'opera la compie il Signore come compirà secondo voi l'opera il Signore come tu pretendi e come tu immagini che Dio compie la sua opera nella tua vita mi vuoi rispondere stamattina cioè Signore si è fatta la tua volontà ma come accadrà questo accadrà se tu prendi l'iniziativa ma ti posso garantire che Dio compie la sua volontà sulla terra utilizzando uomini e donne che lo ascoltano la volontà di Dio non si compie sulla terra se non ci sono uomini e donne che ascoltano e si mettono in moto ci hai mai pensato? è molto spesso l'impedimento della volontà di Dio e dell'opera di Dio siamo noi con il nostro orgoglio con le nostre rabbie iri e rancori con la carne che ci tira attaccate siamo noi l'impedimento tre ripeto Barak ha messo fede alle parole di un giudice e profeta io non sono Dio nella maniera più assoluta ho bisogno di Dio quanto te come te però se Dio mette degli uomini come dice la scrittura in una posizione per la tua vita ascolta metti fede a quelle parole non è entrato nulla nella tasca di Deborah il popolo di Israele poteva continuare a stare in quella situazione però Deborah è stata ammossa da Dio dire vai da Barak e basta e molto spesso noi vi incoraggiamo vi diciamo le cose fai questa scelta hai bisogno di fare questa scelta però è proprio quella scelta tu non la vuoi fare ma la tua vita non cambierà continuerà a stare in una situazione difficile stagnante guardati intorno i figli di Dio l'abbiamo detto qualche culto fa prosperano la tua vita sta prosperando come va la tua economia la famiglia i sentimenti la famiglia stai prosperando stai dimostrando di essere vittorioso su ogni cosa o vittorioso vediamo la situazione in questa storia Israele pecca Israele fa ciò che male agli occhi del Signore Dio lo mette nelle mani dei suoi nemici gli israeliti piangono abbiamo visto gridavano al Signore quattro Dio manda un giudice per salvarli cinque da pace per quarant'anni ci stai pensando? noi abbiamo con il peccato abbiamo fatto male agli occhi del Signore e quando noi pecchiamo facciamo male agli occhi del Signore e quindi autorizziamo il nostro nemico ad entrare nella nostra vita e quando il nemico entra e comincia a distruggere incomincia a rubare incomincia a legarci e cosa fa il figlio di Dio? incomincia a gridare al Signore incomincia a lamentarsi Signore 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 e quando tu gridi al Signore lo Spirito Santo ti ricorderà che c'è stato qualcuno che ha già giudicato tutto e che ha pagato per te ed il nostro avvocato e giudice è Gesù Cristo ci hai mai pensato tutto ciò e quando tu ti rivolgi a Lui e metti la tua sorte nelle sue mani e lasci che sia Lui il tuo avvocato il tuo difensore e il tuo giudice tu avrai pace dentro sai perché non hai pace? perché vuoi essere tu il giudice della tua vita ti vuoi fare giustizia da solo e stai sbagliando vuoi per forza che le cose devono andare come vuoi tu vuoi per forza che gli altri devono fare come dici tu ti faccio un'altra domanda questa mattina ma quello che tu stai dicendo agli altri di fare è la veramente la volontà di Dio per la sua vita stai ancora hai ancora in mano tu la tua vita o l'hai messa nelle mani del Signore lascia che sia Dio a fare l'opera e Dio umilia il nostro nemico lo ha umiliato tanti anni fa lo ha umiliato davanti a questo evento meraviglioso della croce e Dio continua ancora oggi a umiliare il nostro nemico ascoltami con me cioè seguimi ripeti quello che io dico cerca di comprendere questa situazione Dio umilia il nostro nemico davanti a noi e non sarà mai più che è il nemico che è il nemico a permettere a Dio di umiliare il nemico davanti a te che deve stare sotto la pianta dei nostri piedi ogni situazione anche quella più spicciola anche quando qualcuno vuole mettere a dura prova le tue emozioni tu dici no tu devi stare qua Gesù il nostro giudice il nostro avvocato ne ha fatto un pubblico spettacolo lo dice Paolo lo vogliamo leggere così tu memorizzi questi versi in Colossesi capitolo 2 verso 15 e poi arrivo a conclusione che dura mezz'ora la conclusione Gesù ha spogliato i principati e le potestà e ne ha fatto un pubblico spettacolo trioffando su di loro per mezzo della croce fermati question mark domanda stai trionfando chieditelo io sto trionfando sto trionfando sul lavoro sto trionfando sulla mia casa sto trionfando con le mie situazioni sentimentali nella mia famiglia nella chiesa nel ministerio no se non stai trionfando c'è il nemico fermati gli permette ancora di agire gli permette ancora di procedere fermati hai fede ma questa mattina Dio ti ha mandato una Deborah a dire datti una mossa datti una mossa datti una mossa perché tu sei un uomo di conquista sei una donna di conquista non sei chiamato a essere conquistato ma sei chiamato a conquistare per questo il titolo di oggi è conquistato per te e ci ha fatto tutto invece ci lasciamo conquistare via la persona che è vicino a te sei disposto a conquistare no non è convinto non sei stato convincente sei disposto a conquistare siamo disposti a conquistare ma non siete stati convincenti da capo sei disposto a conquistare la risposta qual è e sì lo ripetiamo siamo disposti a conquistare Dio lo farà per noi se noi rispondiamo sì Dio lo farà per noi se noi abbiamo quest'attitudine di conquista e di uscire sul campo del nemico Dio lo farà per noi ma se rimaniamo a casa non accadrà nulla Dio agisce così se segui le sue istruzioni conquisterai Dio ti darà un ordine a me non mi avessi niente se romano è così devo fare quello che dico io a modo mio io sono fatto così io la vedo così o tu hai la tua visione o la visione di Dio è tua se avrai la visione di Dio vedrai Dio agire se avrai la tua visione vedrai le tue mettiti l'aggettivo più corretto agire il profeta Amos ha detto queste parole molto sagge leggiamo Amos 3 capitolo 7 cioè capitolo 3 scusate versetto 7 dice poiché poiché il Signore Dio legge bene non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi e ai suoi profeti non fa nulla e Dio ti vuole rivelare tante cose e molto spesso lo fa con i suoi servi ma tu fai l'arecchia del mercante si dice fai assumi una posizione di menefrecchismo vieni in chiesa ti siedi ascolti te ne vai ma quello che è stato detto non fai nulla non cambierà mai la tua vita leggi la parola di Dio rispondiamo in automatico Amen 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 ma non facciamo nulla noi siamo il popolo degli Amen gli Amen automatici ma non servono a nulla gli Amen la vera fede agisce la vera fede ti prende e ti porta sul campo del nemico a conquistare qui che ci voleva l'Amen si è stato zittito Deborah prima di ricevere istituzioni prima ha ricevuto istruzioni e poi ha agito quanti vogliono avere istruzioni da Dio per vincere sul nemico stai andando in preghiera perché le istruzioni non le ha al supermercato e nemmeno ti vengono messe vicino in parabrezza e non ti arrivano nemmeno per posta le istruzioni le trovi nella parola di Dio le istruzioni le trovi quando vai sulle ginocchia le istruzioni le trovi quando ti apri a un fratello a un pastore e ti dice eh amore mio fai così e Dio susciterà nella tua vita una Deborah che ti darà consigli dopo di che non serve venire avanti pensando che Dio si muoverà perché tu sei afflitto Dio ti dà tante possibilità ma vuole che la tua fede diventa azione ci siamo? che le persone che devono comprendere sono distratte si lasciano distrarre facilmente Deborah ha ricevuto istruzioni qual è stata l'attitudine di Deborah chiesa? non ha analizzato le parole con la logica no però il pastore mi ha detto questo però la parola di Dio dice questo e comincia a andare in analisi non ha fatto questo Deborah non ha permesso al dubbio di allontanare da quel progetto per Deborah è stato sufficiente sapere che Dio ha stabilito che questa cosa andava fatta così e a me e a te è più che sufficiente sapere che Dio ha detto che così si deve fare è così perché così funziona non va dubitata non va discussa e non va nemmeno come dire pensata con la logica il piano di Dio della nostra vita quando noi riceviamo un piano da Dio va subito applicato e invece noi andiamo in discussione eh però eh sì forse perché noi abbiamo quell'intelligenza che supera l'intelligenza di Dio vero l'unica cosa da fare quando Dio ci dà istruzioni è compiere la sua volontà agendo ripeti di nuovo alla persona che è vicino a te incoraggiala e di il Signore è con te il Signore è con te ripetilo sei disposto sei disposto sei disposto la conquista non dipende da te e nemmeno da me però Dio ha una strategia ha una strategia che vuole darti per farti conquistare ha una strategia per farti diventare un uomo che conquista Dio ha una strategia che vuole darti affinché tu sia vittorioso la vuoi? agisci agisci la fede vera si mette in moto agisce è la traduzione simultanea Dio non è solamente un Dio che conquista ascoltami bene Dio non vuole darti solo la vittoria ma Dio vuole darti una vittoria schiacciante sul nemico lo sai da dove si vince questo? tu mi hai dato vent'anni di disperazione dice Dio io ti do una vittoria schiacciante quarant'anni di pace te ne do il doppio Dio non vuole darti quello che tu stai chiedendo Dio vuole darti il doppio di quello che tu stai chiedendo ricordatevi sempre quando Paolo diceva che noi non sappiamo pregare ed è vero che non sappiamo pregare perché noi ci accontentiamo nella preghiera chiediamo le cose inutili oggi la battaglia c'è ancora c'è un Sisera c'è un nemico ci sono i carri di ferro novecento uomini a cavallo ci sono ancora tu puoi conquistare tutto ciò se agisci con lo spirito di Deborah prendi l'iniziativa subito il ferro si batte quando è caldo tu puoi conquistare con la fede che si attiva con una fede che si mette in azione tu puoi conquistare con lo zelo tu puoi conquistare con il fuoco dello spirito santo che brucia dentro di te ma se non hai zelo non hai fede che agisce e non hai il fuoco tu non conquisti ma sei già conquistato già il fatto che il fuoco non c'è più in te già sei stato conquistato ti rifaccio una domanda sto arrivando a conclusione eh quanti carri di ferro ti stanno bloccando? fermati fai la lista chiama per nome i tuoi carri di ferro dagli un nome dagli un'identità chi è il tuo sisera oggi o quanti sisera hai che ti stanno togliendo la pace quanti sisera hai che ti stanno rubando quanti sisera hai che ti stanno predicando immondizia quanti carri ti stanno facendo paura quanti carri ti stanno trattenendo oppure che cosa ti sta trattenendo pensieri di inferiorità paura ti trattiene il pensiero degli altri il dubbio o ti sta trattenendo l'orgoglio ancora quel monellino o ti trattiene la pigrizia brucia la cuore o ti trattiene l'ostinatezza non la faccio e vughi a parlare con oggi non la faccio ma ricordati Dio si era profeti o si era sacerdoti e il primo sacerdote è Gesù Cristo il secondo sacerdote è tuo marito il terzo sacerdote forse è il tuo pastore Dio si era loro per parlare della tua vita metti da parte l'orgoglio l'ostinatezza tutto ciò per Dio è nulla per Dio non sono niente pensieri di inferiorità paura orgoglio sono piccolezze però c'è una verità Dio vuole liberarci da tutto ciò Dio vuole tirarci fuori da tutto ciò ti faccio un'altra domanda ti senti un barac stamattina? andiamo armiamoci barac e baracchina andiamo ti senti un baracch? ti senti un baracch stamattina? se ti senti un baracch quanti si sentono baracch anziché debola? perché non tutti caratterialmente hanno questo spirito di prendere iniziativa ci sono anche dei baracch che non è male essere baracch allora tu ti puoi identificare in una debola che prende l'iniziativa un po' come il pastore che subito e si aziona però puoi essere un po' più come dire bradipo e aspetti sempre quella persona che ti viene a dire muoviti però o debola o baracch basta che non sei sisera sei debola o baracch? chi si sente baracch? nessuno tutti debola siete? Nico è un baracch ok Isabel è una debola abbiamo una che prende l'iniziativa meno male se tu ti senti un baracchio voglio dirti questo ascolta la voce del profeta ascoltala mettili fede a quella voce e agisci ripeti con me tu decidi se essere un conquistatore o essere conquistato lo decidi tu non è colpa di nessuno non è colpa di nessuno vogliamo leggere gli ultimi versi quanti credono che sono gli ultimi versi questi? stai mettendo fede a quello che sto dicendo è vero e ti voglio far vedere come debola lo leggerai nel capitolo 5 di giudici gli è stata accreditata la vittoria e subito subito dopo debola ha innaustato un cantico al signore il cantico di debola che non ho letto non ve lo porto ma per chi ha fame leggete giudici 5 però anche la figura di Barak il signore non l'ha denigrata non l'ha denigrata Barak ha continuato a essere un esempio quindi essere un Barak non è malvagia come situazione però Barak ha ascoltato la voce del profeta e si è mosso e è andato sul campo guardate Barak dove viene nominato nel Nuovo Testamento ci sei Giuseppe ora sì noi sappiamo che quelli che si tirano indietro ora noi non siamo dice qui l'autore di quelli che si tirano indietro quando Dio parla ma siamo quelli che per fede ottengono la vita la vittoria la conquista siamo quelli noi allora vediamo tutti quelli che per fede hanno ottenuto la vita chi sono? fa un elenco lunghissimo a un certo punto arriva e dice così me Giuseppe me eh no ah Matteo ok se tu leggi con me Ebrei 11 ti accorgerai che nella lunga lista c'è Barak nel capitolo degli uomini di fede dove c'è Abramo Mosè Enoch alla fine parla di Davide e cita anche Barak ci sta che tu sia un Barak però ascolta se vuoi essere un Barak andiamo a leggere Matteo guardate cosa Gesù consiglia dice dai giorni di Giovanni Battista fino a ora ripeti con me ora adesso oggi now fino a il regno dei cieli è preso a forza e i violenti si rimpadroniscono non quelli che stanno così all'alignarsi il regno dei cieli le cose spirituali non sono per quelli che vogliono far valere i propri diritti sono per quelli che ripongono la fiducia nel Signore il regno dei cieli sono per quelle persone che mettono fede nelle promesse di Dio e se le vanno a conquistare il regno dei cieli è preso a forza dai violenti da tutte quelle debora che prendono l'iniziativa e vanno a sconfiggere il nemico lo vuoi il regno dei cieli? è così finisco con un ultimo verso che vuole essere un verso di incoraggiamento questa mattina e poi preghiamo lo troviamo in Isaia e voglio dirti questo che la parola di Dio uscita dalla sua bocca non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata dice Dio tutto quello che io ti dico di fare funziona non la dubitare funziona la parola di Dio quando esce dalla bocca di Dio non torna a vuoto se non compie qualcosa diamo vita a queste parole diamo movimento a queste parole amè? Luca l'ultimo l'ultimo verso qua è la situazione di questo verso è quando l'angelo parla a Maria e gli dà l'annuncio che è stata beata fra tutte le donne e che deve partorire Gesù e gli dice non vedi Elisabetta era sterile e ora aspetta un figlio poi continua e dice perché ok vai indietro per favore e questa è la prima parte ok dice qui poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace sentiti quest'angelo stamattina che ti grida nelle orecchie nessuna parola di Dio rimane inefficace poi avanti Maria disse ecco io sono la serva del Signore mi sia fatto secondo la tua volontà e l'angelo la lasciò vi voglio lasciare con queste parole con questa attitudine di Maria che rispose all'angelo se nessuna parola di Dio rimane inefficace io voglio essere suo servo ed essere servi significa dimmi quello che devo fare e io lo faccio amèn che il Signore vi benedica amèn grazie grazie